Buongiorno 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 Allora, cosa prendiamo? Ehi, un momento Comunque io non ho fame Ho mangiato troppo a pranzo Prendo solo una spremuta d'arancia Ok, io invece... Buongiorno signori Ah, buongiorno Dunque, io prendo un... Io vorrei una spremuta d'arancia Ma arance rosse, eh? Con due cucchiaini di zucchero Bene signora Allora, per me... Un tramezzino con prosciutto crudo e mozzarella E una birra piccola Ah, avete tiramisù fatto in casa Beh, questo mi va Allora, un tiramisù per la signora? Uh, anche la panna cotta Buona! Sì, sì E anche un tè Ma hai già ordinato una spremuta? Ah, già, è vero Beh, allora, niente spremuta Prendo un tè E per me anche un caffè decaffeinato Prima o dopo il tramezzino? Prima, anzi dopo Ho capito Allora, ripeto, per la signora... Ciao Valeria Come stai? Io sono in un caffè con Lorenzo Grazie Io ho fatto un po' di shopping E poi ho incontrato Lorenzo Ciao! Ti saluta Ma dai! No, è Lorenzo che mi sta dando noia Oh no! Ah Ah È Ah Ah La birra è per lei? Sì, la birra è per me ma non voglio il tè. Io ho ordinato il tè, ma la spremuta no, ho detto che non lo volevo più. Il caffè decaffinato? No, veramente avevo detto dopo il tramezzino. Il tramezzino? Io ho qua una panna a cuota e un tiramisù? No, io ho ordinato solo il tiramisù. Che confusione.